Dinamicum Education, provider ECM sin dal 2001, è leader nel campo della formazione medica, residenziale e a distanza e nell'organizzazione congressuale. Dinamicum Education è segreteria organizzativa di primarie società scientifiche. Centinaia di eventi, internazionali, nazionali, organizzati ogni anno, caratterizzati da un elevato contenuto scientifico. Dinamicum Education, sempre alla ricerca di nuove formule ad alta tecnologia, è infatti esclusivista della piattaforma Virtual Event.